Il Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica, IAT, si è ufficialmente trasferito nella nuova sede all'ingresso della Biblioteca degli Arconi a Perugia. L'amministrazione comunale ha deciso di trasferire la sede IAT dalla loggia dei Lanari alla prestigiosa sede degli Arconi dove è presente all'ingresso una postazione completamente nuova, sopra la quale sono presenti visori che trasmetteranno messaggi multimediali. Per convogliare gli studenti agli Arconi saranno presenti in centro delle indicazioni stradali ma i turisti potranno trovare tutte le informazioni utili nelle mappe multimediali della città. Lo IAT sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Nel periodo estivo il servizio Sipro trarrà fino alle 21.